Buongiorno, proprio buongiorno perché è prestissimo, è sabato mattina, prestissimo, sabato mattina 10 novembre, mamma mia, se nemmeno che giorno è oggi. Direzione Bergamo per, salve, per l'inaugurazione del villaggio di Natale al nuovo Garden Caravaggio. Al momento siamo in coda in autostrada, evviva, speriamo di non starci tutto la mattina perché alle 11 inizia l'inaugurazione, quindi speriamo di non arrivare tardi, guarda che coda, vabbè, a più tardi. E vai con la coda, che stress. Ecco, arrivati dal Garden Caravaggio, adesso aspettiamo l'intra villaggio di Natale. Ciao. 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 Grazie a tutti. Adesso vi faccio vedere una cosa spettacolare. Inizione, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua siamo all'esterno del Garden. Grazie a tutti. Centro Verde Caravaggio, oltre adesso al mercatino minatale c'è tutta una zona di home decor e anche una parte dedicata agli animali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.